Il quartiere di Sant'Orso e i suoi residenti non hanno pace. Atti di vandalismo, furti, danneggiamenti di vario genere a strutture pubbliche e private sono da diverso tempo all'ordine del giorno. La cassettina porta libri sembra essere l'obiettivo prediletto e viene profanata quasi settimanalmente. Si va anche dai muri imbrattati al vandalismo negli spazi verdi con mattoni e selciato diverto nel parchetto, schiamazzi notturni, danneggiamenti a negozi ed attività commerciali come il bar Pizzeria d'Appoldo che alcuni giorni fa nell'orario di apertura ha fatto l'amara sorpresa che qualcuno di notte aveva avuto la simpatica idea di riempire la serratura di un potente colla cianoacrilica e spendere così diverse centinaia di euro per la sostituzione della serratura. La notte tra sabato e domenica hanno messo dell'attac nella serratura del bar per cui ho dovuto richiedere l'intervento dei pompieri per poter entrare, hanno rigato i vetri, adesso abbiamo fatto la denuncia e vediamo, risulta che le telecamere per il momento non funzionano e vediamo se riusciranno a risolvere il problema. L'altra notte poi anche le auto in sosta sono state prese di mira dagli ormai soliti noti, additati dai più residenti come i responsabili di questo clima da Bronx che delangue nel quartiere, diverse auto, quattro forse cinque comprese quelle della presidente della Confcommercio di Fano e di suo marito con vetri sfondati in alcuni casi anche depredati del loro contenuto. Esasperazione, consapevolezza e rassegnazione i sentimenti che provano i residenti disorientati anche su quelli che potrebbero essere le contromisure, presenza delle forze dell'ordine o videosorveglianza. Come si vive? Male perché c'è poca sorveglianza, poco sicuri, sì perché si vede girare polizia o vigili urbani, pochissimo, anzi quasi giorni non passano per niente. A ti mandare ci robe rotte ogni tanto succedono? Che succedono? Andiamo avanti così, la macchina la mettiamo nel garage finché ce l'abbiamo. C'è sti vandalini in giro che fanno un po' come gli pare, un po' come gli pare, sì. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Telecamere, un po' più di sorveglianza? Ci vorrebbero, sarebbe meglio. Che ci fosse? Un po' se ci fosse. Vi sentireste un po' più sicuri? Più sicuri, sì. Io ho l'allarme poi in casa e adesso penso di me stesse le camere ma non so se... C'è un po' di rassegnazione? Sì, non esco più dopo cena, ma durante il giorno sono abbastanza tranquillo, ma di sera no.